In sicurezza di Covid ci sono stati dei controlli serrati nell'ultimo weekend, soprattutto a Messina. È stato chiuso un lido e 5 i locali notturni nella blacklist del comune, anche per la vendita di alcolici fuori orario. Un lido della zona nord è chiuso, 5 locali nella blacklist della polizia non aria, ma non solo. Ancora troppi giovani ubriachi anche alla guida ed una ragazza soccorsa dal 118 è finita al papardo in coma etilico. Il bilancio dell'ultimo weekend della Movida in arrivo allo stretto registra ancora una situazione allarmante, soprattutto nella riviera nord della città, dove si è spostata la vita notturna di Messina. Si è iniziato sabato con un lido ancora aperto, ben oltre l'orario di chiusura, fissato dalla prefettura e dal comune. Dai controlli e la polizia municipale sono invece emerse diverse irregolarità di locali con riferimento alla sicurezza alimentare, prodotti conservati male come cozzo e vongole o dolci, occupazioni abusive di demanio pubblico. Diversi verbali sono stati elevati perché ristoranti ed attività erano ancora aperte e continuavano a vendere alcolici. Oltre l'orario consentito in campo, anche i carabinieri che hanno presidiato le strade del centro cittadino e quelle della zona nord, una ragazza si è sentita male dopo aver bevuto troppi alcolici e si è reso necessario un immediato strasporto in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Papardo. Si tratta di una giovane spagnola di 22 anni in città per l'Erasmus, soccorsa intorno alle 4 del mattino, quando era in coma etilico. Altri due giovani che disturbavano i viaggiatori e il conducente di un autobus notturno dell'ATM sono stati fatti scendere dai carabinieri che poi li hanno identificati mentre un 13enne è stato beccato alla guida di uno scooter senza patente, ha forzato un posto di blocco a Torre Faro ed è stato fermato dai militari dopo un inseguimento.